Bene che avete aperto le porte andiamo Aiuto non salta, il lag non mi permette di saltare E salirò le scale Convinto della meta Andiamo avanti Ma cos'è? Beh però e salirò le scale Non ora eh Aiuto aiuto sono senza colpi muoio male Ok grazie Aiuto muoio Torno E ci torno Oddio di zombie So vivo Rosso 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 Oddio 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 Sei vivo Oddio Oddio Veloce Salvami Salvami Nuce Ho due armi에e paccapanciate ragazzi Ho due armi에e paccapanciate Ho due armie paccapanciate Ho due armi paccapapanciate Corri 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 Su da me zombie Su da me Sb Non Famili Lasciate spiegare cosa è accaduto L'hardisk L'hard disk mio ha smesso di registrare Ho dovuto ridurre i giochi Facendoli laggare tutti Per cambiare la posizione di salvataggio Quando sono tornato erano tutti morti A terra e è successo quello che avete visto Una cosa incredibile Oh mio dio ragazzi cosa è accaduto Epicità ma sto frocio non mi ha salvato Io direi che comunque L'uomo partita rimango io in ogni caso Ma è vero io sono saltato Lo vedi quel cubo lì Lo vedi quel quadrato lì Io ci sono saltato sopra non so come Ma porca pittana schifo Gioco del cazzo sono cretino Vaffanculo è incredibile Incredibile cosa è accaduto Che palle Io sono responato Io sono responato Che ero sdraiato circondato Dagli zombie con voi morti Non è stato una bella Non ne ho idea Francesco mi amore ci sono io Francesco mi amore tira su e apriamo sta porta vero zii Zia via via non ci credo No 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 Ma queste si chiudono no davvero non si chiudono queste Sono dopo quelle che si chiudono Perché dovrebbero chiudersi E dopo ci sono quelle che si chiudono Aiuto No no Eccolo ecco Io sono caduto Eccolo il mona Debe pensaci tu dai che sei sotto Però sono salvabile Sono salvabile Infatti è schifo C'è la bomba c'è la bomba Venite venite c'è la bomba Fra è vivo zoom Oh cosa ti butti giù Ah ho il pcd Ma c'hai il giac Che sei schifo Ho il giac e il pcd Oh ho fatto un qualcosa di Ero rossissimo E sono sopravvissuto a tre colpi da rosse Impossibile Ah ma quando si chiudono Ma quando è che le ho fatte queste scale Che si chiudono Non me lo ricordavo Quando le ho fatte I credini che si chiudono Sono l'emblema veloce Che ci seguono Ma cazzo erano queste Allora si chiudevano Io tranquillo Sciallo invece Anch'io aiuto Li sento Ma lei è un incompetente Dai sono salvabile Salve lei Eccomi di nuovo Io sento salvarla Ragazzi Ce la farà adesso Ce la farà il nostro eroe No Si chiudono Si chiudono Veloce Vai prendilo 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 Ah bravo Grazie a Dio Io ho poco panciato la capa Comunque Mirko deve aprire la penultima porta Eh sto arrivando Quanto costa questa? 8000 8000 Ragazzi Devi aprire subito Arrivo Arrivo Ah ma eri giù Dove aprire C'è l'emblema è aprire Apri Ho aperto zio I pezzi I pezzi Ti stiamo prendendo I pezzi L'iron Vai 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 Instakil Prendi l'instakil Grande mossa È grande mossa È la mossa Raga 4000 Raga 4000 Ed è l'ultima No è l'ultima 4000 comunque Tranquillo Zio sta arrivando Gimbo devi aprirla tu però mi sa Ragazzi Mi avete fatto perdere due armi pacca panciate Allora le spiego qual è il problema Instakil Instakil Eh vado io aspetta però che uccidiamo un po' di zombie Lasciala dov'è Lasciala dov'è No le spiego subito un problema signor Apri 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 Aiuto Vai 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 Ti copri Vai grande mossa C'era anche un perchio qua comunque Mischiato dentro Ho mi ha dato il phd Vai apro io le vatte Pphd è utile Il phd è utilissimo Ok così sono finalmente Per le cadute Oh ragazzi ho il jug Oh Oddio Ti ho visto volare Tra cui non stavo per cadere in acqua ma sono vivo Comunque c'è lo zombie a napo qua sotto Abbiamo instakil Vai Instakil Quanto costa Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? Diecimila Figa zio Ragazzi chi è vicino a diecimila? Io sono sei mila ma C'è chi ha la cisgun? Chi ha la cisgun? Io sono a sei mila sto arrivando Eh cosa diceva qua? Welcome to the black undo Ah là c'è la testa là Ti ho coperto signor Qua c'è la testa Presa 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 Ok apriamo apriamo apro apro io apro io Apriamo il dirigente Scialla Vai Cazzo diecimila Ok niente non posso aprire Ma posso Io non sparo Vi guardo Comunque Cosa vuol dire? Io vorrei dire Io mi metto a contare i buchi sulle pareti Io vorrei dire che In questa mappa È la mappa dove Escono gli escape più assurdi Sì 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 Concordo Questa qua è Ragazzi mi metto nell'angolo E vi guardo Ho fatto un qualcosa di Incredibile che non sta Né in cielo né in terra Dai solo mille ragazzi Ci abbiamo fatto al primo tentativo Voi pensate che sia Il Il jimbo che si suicida all'inizio Pensa No 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 vabbè Questa è la partita Adesso moriamo Io sono senza emmo E lo dico Vai vai Basta che fai 500 punti Lancia granate a casa Guarda Da baffa anche che dai Fai due pugni Due testate Ma fai 500 t Esatto Bene ecco bene Vede va al caso 50 60 un po' Vai ti prego Puoi sputtare su uno zombie E ti dà 60 punti Ti accarezza Accarezzano zombie Accusisci Tipo tamagotchi Vai 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 Vatta fatta Andiamo andiamo Io devo ancora capire Cos'è sto perk incredibile Ok ok Eh serve per avere colpi infiniti Eh questo perk serve per l'armatura di Ironman Esatto Colpi infiniti Ah per l'armatura Uuu il PPSH Ragazzi ho bisogno di farmi una cassa Datemi quest'armatura di Ironman Non ho emmo cazzo Io apro le porte Apro le porte Però poi finisco Io ho la testa Finisco i soldi E non compro più niente Debe ha la testa Anche se non la usa Debe ha la testa No 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 Io ho la testa Ma il cervello in abbondanza Max Armero Passa mia Help Help Arrivo Fra Arrivo Fra Da qualcuno tipo si ricorda la combinazione per l'escape Sì sì me le ricordo me le ricordo io La combinazione per l'escape te le ricordi? Sì sì Qual è qual è? Copritemi La combinazione per l'escape qual è? Sai che ci sono i numeri Debe Certo mi ricordo allora aspetta No quello quella per l'escape 120 È quella sopra l'escape Cazzo quella del escape no Ecco bene Questa ci serve Eh non me la ricordo io zio Mi ricordo quelli Io non me la ricordo No Jimbo non sparare a caso Che te lo blocca Mi sembra che forse due qualcosa 2 1 4 Ok Fermo Jimbo aspettate Eh Cheese Forse io provo ad andare su a giocare con le combinazioni mentre voi Ecco You are a failure Bene Complimenti Non sono stato io lo giuro Complimenti Jimbo mi ha detto cheddar Ho pensato proprio che allora lo sa Allora Allora No ma cos'è successo Cosa vi hai detto fra 2 1 4 2 1 4 sì E io dico aiuto Sei sicuro che forse 2 1 4? Oh 2 1 6 forse No non è 2 1 4 Prova ad andare su 6 Sì ma non dovete portarmi gli zombie dopo Ci sono proprio tutte le combinazioni zii Montate Iron Man Figa zio se non monti Iron Man sei un coglione Iron Man è l'emblema Oh sì 2 1 8 2 1 8 perfetto Ok tecnicamente con 25.000 possiamo scappare e finire la mappa Tecnicamente Sì ma figa zio voglio usare Iron Man Cioè ragazzi questa mappa per noi non c'è Ah io ho un pezzo comunque Di Iron Man Anch'io io ho ancora la testa di Iron Man Eh allora vadi a montarlo Dove cazzo è che si monta? Figa zio abbiamo i pezzi di Iron Man e non li usiamo Oddio dov'è? Lo scudo di Capitano America ragazzi La prossima mappa ci sarà Capitano America Oh 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 Dov'è? Dov'è? Dov'è sei cretino? Salve sono caduto colpito della mappa Inva le scimmie tira Ah le scimmie le scimmie è giusto Colpa Cioè anche i giocatori forti vanno a terra prima o poi ragazzi Infatti io sono quello che è sempre andato a terra Qua qua è esatto qua è data male No no Tu 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 No 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 Eh infatti questo per avverare quello che appena ha detto il scimmie Ok io ho messo il pezzo Anch'io Debe Le scimmie 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 hai le scimmie Mirko Ok ottimo 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 Io voglio l'armatura più costosa non posso permettermela bene Mirko hai le scimmie Ah giusto E sto arrivando Cos'è che hai cattuato il cibo? Tutto il formaggio? Cosa? Comunque il suono è morto Chi è che è andato giù a morire? Ah è lui E lui chi? Trivia game is ready ok aspetta ho capito ho capito ho capito ho capito Risolvi il puzzle Debe Arrivo un attimo eh non riesco a girarmi ahhh Ragazzi io sono senza giag e senza niente adesso Io mi ricordo le risposte per i film Ok Debe se tu rispondi al puzzle sbocchiamo l'armatura segreta Porca troia Debe muoviti ma no Debe Eh arrivo io Arriva giocatore forte arriva giocatore forte Ho sbagliato ho sbagliato perchè la cap mi ha detto il culo Certo sicuramente è colpa della cap che non miro Certo come no Credibile Guarda sto zombie come è morto oddio Eh la cap è l'emblema della cosa Quanti punti ci servono? Della Eh 25 mila però io farei la Bene farei la l'armatura prima Il ragazzo è il quick revive ed ora in poi rianimo io Farei l'armatura segreta però io Il derby non so se avete notato L'armatura segreta è questa qua Mette l'articolo la davanti a tutto la games week la quick revive Eh Fio hai ragione hai ragione Eh che falle Io ho tutto Madonna madonna Oh sta mappa ragazzi sono No aspetta aspetta prima di prenderlo Velocchi prendetelo prendetelo Cos'è cos'è? Prendilo 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 No 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 Ma è inutile io ho già le armi pacca panciate Eh ma chi l'avrebbe mai detto Ma chi l'avrebbe mai detto Io sono ancora un umile plebeo senza armi pacca panciate Vada vada prenda sto schifo Manca Ah no possiamo comprare l'armatura Sì io l'ho comprata ma non so come equipaggiarla non mi ricordo Ah ecco grazie per l'armatura Nooo